Nelle gare da palto improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica in presenza di criteri puntuali e stringenti può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della Commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri.